Oggi il 21 dicembre ci ritroviamo dopo un anno ancora a ringraziare Giovanni e tutto quello che ha fatto quest'anno che ha vinto diversi titoli al campionato nazionale e al campionato regionale settimana scorsa e noi siamo solamente grati al suo impegno e rinnoviamo il nostro piccolo contributo ma ha un grande successo che nel 2023 li vedrà ancora protagonisti nel loro impegno.